Grazie a tutti. La corsa premio X3 Intelligence, sono cavalli anziani, ben 10 al via, intanto vediamo qualche problema per Sartiglia Griff che è la gran favorita ma cerca di ingambarsi ora. 1 Sissi Mamma, 2 Vera degli Olivi, 3 Valkyrie Matto, 4 Trinidad e Sledi, 5 Sartiglia Griff, 6 Valkardena Jet, in seconda fila 7 Urica dei Daltri, 8 Verità Ciac SM, 9 Vara, 10 Urra Jet. Tutte femmine. Vediamo di galoppo Vera degli Olivi. Veloce Sartiglia Griff, cerca di prendere la testa, scavalca Valkyrie Matto, poi anche Sissi Mamma e si mette alla corda. Allargo Valgardena Jet, con Karim Berri che va dritto sulla battistrada, 13-8 addirittura il primo parziale ma il posto non c'è. Karim Berri ci prova ma Sissi Mamma serra sotto e arriviamo ai 400, addirittura il 27-8 con Karim Berri che non riesce a parcheggiare e purtroppo dovrà adeguarsi all'esterno, purtroppo per lui. Valkyrie Matto invece è terza alla corda, 600 in 43-2, figli del violento i primi 400 metri in vantaggio, Roberto Vecchione con Sartiglia Griff davanti a Sissi Mamma e Valkyrie Matto, mentre Verità Ciac SM sposta in terza. Intanto viene fuori un 58 e mezzo per il primo giro, insiste Verità Ciac SM ma non riesce a scavalcare Valgardena Jet che è ancora tonica a largo. Intanto però Sartiglia Griff mantiene ottimo ritmo, 1-13-4 la media al chilometro, poi Sissi Mamma seconda davanti a Valkyrie Matto, ancora una coraggiosissima Valgardena Jet che cerca ancora di avanzare, trascinandosi Verità Ciac SM, 14-6 di là con Valgardena Jet che insiste ancora e aggredisce Sartiglia Griff, siamo a poco più di 250 metri alla conclusione, si prepara anche Tommaso Di Lorenzo con Verità Ciac SM, siamo in retta d'arrivo con Sartiglia Griff che è un po' stanca, passa Valgardena Jet ma viene attaccata da Verità Ciac SM ed è Verità Ciac SM che viene a vincere con Tommaso Di Lorenzo al secondo una stoica Valgardena Jet davanti a Valkyrie Matto, 1-14-6 la media al chilometro per la figlia di Cicci S Cacchiti della signora Giuseppina Scopece, il training è quello di Vincenzo Castiglia alla guida di Tommaso Di Lorenzo che viene a vincere la quota di 3-20 seconda una commovente Valgardena Jet che ha corso a largo per tutta la corsa, praticamente ha debellato la battistrada favorita Sartiglia Griff ma ha dovuto cedere alla più fresca Verità Ciac SM mentre terza la saura l'ha postata Valgierie Matto con Andrea Farolfi. Grazie a tutti Grazie a tutti